Ho chiamato stamattina il Presidente Mattarella per fare a lui e a tutti gli italiani migliori auguri di buona Pasqua, per quanto possibile, per assicurare l'impegno costante, concreto, testardo di tutte le donne e gli uomini della Lega in tutti i comuni italiani, da nord a sud, nelle province, nelle regioni, per salvare vite e per salvare domani posti di lavoro e risparmi degli italiani, che è quello su cui ci stiamo concentrando, e anche per questo non ho potuto nascondere la sorpresa, il rammarico, lo stupore per gli attacchi, per gli insulti, per le bugie ricevute ieri da Mede alle opposizioni e quindi da milioni di italiani in diretta tv dal Presidente del Consiglio. Dal governo noi e gli italiani ci aspettiamo risposte, soluzioni, informazioni, non attacchi e polemiche. Quindi non perdo tempo a rispondere anche perché la situazione economica è grave. Ho espresso al Presidente Mattarella tutta la nostra preoccupazione per i problemi non risolti. A oltre un mese dalla chiusura di case, uffici, fabbriche e negozi le famiglie non hanno ancora visto un euro. Non c'è nulla a sostegno del pagamento degli affitti, delle bollette. Chi è in arretrato di una rata di mutuo si sente chiudere le porte in faccia. Le imprese potranno avere al massimo soldi a prestito e quindi fare nuovi debiti senza nulla a fondo perduto. Partite IRVA, lavoratori autonomi, liberi professionisti, precari e disoccupati non hanno ricevuto alcun tipo di sostegno e quindi come Lega ribadiamo fortemente la necessità di una emissione straordinaria, massiccia, di almeno 100 miliardi di euro di buoni del tesoro straordinari, denominati orgoglio italiano, da sottoscrivere da parte di risparmiatori, cittadini e imprenditori italiani a condizioni fiscali vantaggiose, evitando qualsiasi sciagura tipo MES o l'intervento di fondi stranieri. Quindi al Presidente Mattarella abbiamo ribadito la nostra voglia di lavorare per ricostruire questo Paese. Le polemiche, ahimè, le lascio a Conte e a qualcuno che evidentemente non ha capito la gravità del momento e i sacrifici che gli italiani stanno facendo. Sacrifici che meritano risposte concrete, denaro certo e immediato, non parole e promesse.